Marino Defendi, viaggio di ritorno da Potenza, non si è potuto giocare? Non si è potuto giocare, vabbè è una scelta che comunque hanno dovuto prendere, come penso abbiano visto tutti il campo comunque era impraticabile. E dispiace, dispiace perché comunque noi siamo andati a Potenza per giocarcela, però adesso pensiamo solo alla partita di mercoledì. Partita di mercoledì che sarà contro il Catania con un avversario decisamente in forma? Sì, è sicuramente un avversario tosto, una delle squadre più in forma del momento, però sappiamo che dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile, mentalmente e fisicamente. Penso che già da domani mattina cominceremo a parlare del Catania.